Ogni anno la festa politica del primo maggio si svolge in una città simbolo, in una città che ha segnato la storia dell'anno che ci ha lasciati. In quest'anno Cigelle e Cisdugui hanno scelto Rosarno per dar voce ai problemi del lavoro, per mettere al centro le vicende che si sono verificate a Rosarno, ma non solo in senso negativo, ma soprattutto per dare una possibilità di riscatto al territorio, alla Calabria e al Paese. Gli arresti di ieri hanno certificato una situazione che tutti conoscevano, c'è lo sfruttamento di tanti lavoratori africani, quindi nonostante i fatti di gennaio la situazione non è cambiata molto. Il sindacato cosa può fare per queste persone? Il sindacato può fare molto come azione di denuncia, come punto di riferimento per la tutela dei diritti dei lavoratori. Il sindacato può avanzare proposte e lo ha fatto con forza nei mesi scorsi, ma dire il vero lo facciamo ormai da tempo. Già in tempi lontanissimi, mi riferisco al primo provvedimento di legge Martelli che introdusse nel Paese le regole sull'ingresso dei lavoratori straniere, come Cigelli siamo impegnati nel territorio. Le proposte che abbiamo avanzato, che purtroppo fino ad oggi sono rimaste senza risposte concrete da parte del Governo, riguardano le regole del mercato del lavoro, il riferimento alla necessità che ci siano delle regole che garantiscono una maggiore trasparenza, un maggiore rispetto della legalità attraverso il controllo pubblico della gestione del mercato del lavoro. E soprattutto chiediamo con forza che vengono introdotte delle norme che disincentivano lo sfruttamento. Non a caso in un Paese civile come oggi siamo costretti a denunciare la mancanza dell'esistenza di una sanzione per chi lavora come caporale. Se voi andate a guardare i capi di imputazioni c'è lo sfruttamento del lavoro, ma non c'è l'imputazione per il reato di capolarato. C'è sicuramente una lacuna dal punto di vista legislativo che va accolmata, come nello stesso tempo c'è la necessità di andare a un rapido superamento della legge Bossi-Fi. Una manifestazione così grande inevitabilmente comunque punterà di nuovo i riflettori sul Rosarno. Secondo lei questa manifestazione potrà far nascere qualcosa di tutte quelle iniziative di cui parlava lei? Potrebbe favorirle? Questa è una manifestazione che vuole mettere al centro la grande positività che nonostante tutto esprime la Calabria. Noi manifesteremo a Rosarno per dar voce ai cittadini calabresi che sono la stragrande maggioranza che vogliono che ci sia un cambio di passo rispetto alle scelte politiche. Siamo convinti che il primo maggio è un'importante tappa di un cammino iniziato già da tempo, ma siamo soprattutto certi che dal primo maggio uscirà fuori una Calabria più unita, una Calabria che è in grado di rispondere agli attacchi che da più parti arrivano all'unità nazionale del Paese. Perché anche questo è uno dei rischi che corre il nostro Paese, anche questo è uno dei segnali forti di autonomia, ma nel rispetto all'unità del Paese che vogliamo lanciare.